Come mai tutta questa gente? Testa scolastica annuale, sono i vecchi alunni di un ginnasio di Monaco. Dammi quella birra. Salute, mi dica. Per favore, ci dia qualcosa di forte per digerire. Subito. No, 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 per me basta, non ce la faccio più. Non fare il rompiscato. Non dirmi che non riesce a mandar giù un altro bicchiere. Se non faccio che bene da quando sono arrivato. Non gli dia retta, quando ci si rivede fra vecchi compagni di scuola, bisogna pur festeggiare un avvenimento. Per anni siamo stati seduti nello stesso banco. Il posto accanto a lui era il più ambito di tutta la classe, mi creda. Davvero. Siamo pecchiati a sangue per averlo. No, 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 è la sacrosanta verità. Stare seduti accanto a lui era una cosa importante. Lui era il primo della classe. Andiamo. È stato il migliore di tutti. Lui era il numero uno, il migliore di tutta la classe, il primo del corso. Ricordo cosa disse il preside consegnandogli il diploma. Sì, ma ora basta. Potete prendere ad esempio il vostro compagno, così disse. Ehi Ulrich. Sì? Vieni qui. Come nell'anno 1984, nel 2020 il bancone si ripresenta ancora come all'epoca. Straordinario da vedere dal vivo. Vediamo chi trolla prima. Uno. Uno. Due. E due. Uno. Due. E due. Due. Uno. Uno. E due. E due. Uno. E due. E due. Ma che cosa state combinate? Un detto e un'isita a noi. Uno. Uno. E due. No, 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 no. Non ne ho voglia. Uno. Vediamo un po'. Ci riesci a toccarti le scarpe con le mani? No. Dobbiamo cerudere come lui. E tu provaci. Voglio vederti in azione. Adesso vedrò qualche pressione. Su e giù. La mia perfetta forma fisica. Uno. Due. E uno. E due. Ma dove è finita la mia auto? Non riesco a trovarla. Di che tipo hai la tua auto? Mercedes. Wolfgang è un uomo di classe. Che domande fai? Il Ruoporter è un uomo di classe. Ah, eccola qua. E allora ci vediamo l'anno prossimo, ragazzi. Stesso posto, stessa auto. E stessa birra. Dottor Wolfgang, ce la fai a guidare? Guarda che non stai parlando con un uomo qualunque. Lui nulla può fermarlo. Neanche quando è in stato di ambrezza alcolica. Vero, io l'alcol lo sopporto benone. La birreria è rimasta la stessa quasi. Come potete vedere dal video, l'ingresso con la porta d'arco è rimasta praticamente come all'epoca. Ne vale la pena proprio visitare questa birreria? Magari anche perché no? Fermarsi a bere una birra. Magari anche più di una. È qui che abiti? Sì, casa mia è al primo piano. Questo palazzo ce l'ha un garage? Sì, certo. E allora che aspetti? Corri a mettere la macchina in garage, no? Sì. E il garage è soltanto tuo? No, è condominiale. Ok. Allora lascia la macchina molto accostata al muro, in modo che non si possa vedere il davanti. Vedere il davanti? Ma certo, non lo vedi che è tutto ammaccato? Ehi, non metterti a guardare i danni adesso. Avanti, portala in garage. Noi due ti aspettiamo qui fuori. Nel 2021 ho voluto riprendere, nello stesso movimento dell'episodio, la scena quando arriva con l'auto, il dottore che si ferma un attimo a riflettere, per poi entrare nel garage, che ho tentato di fotografare, ma purtroppo era chiuso. Tenete conto che erano quasi le due del mattino, ma io ero lì. Fammi fare un turno. Sul muso c'è una bella botta. Purtroppo. E tu non te ne erai neanche accorto, vero? No. Hai avuto fortuna di incontrare noi. Entrate, presto. Ecco la farmacia. È rimasta, per quanto riguarda l'esterno, come all'epoca degli episodi, mentre gli interni sono stati, ovviamente, negli anni rinnovati. Finisca lei con la signora. Arrivederci, signora. Arrivederci. Sono loro quelli della polizia? Siamo noi, sì. Derrick e Klein. Come posso esservi utile? Solo un paio di domande. Vogliono accomodarsi? Sì. Un paio di giorni fa lei è stata ad una festa di ex compagni di scuola. Credo che sia bellissimo poter vedere anche gli interni delle location di Derrick. E qui avete l'occasione di vedere come è oggi la farmacia dell'episodio il primo della classe. Ecco, questi sono gli interni come si presentano ad oggi nell'anno 2021. È già una decina d'anni circa che sono gli stessi. Però ci tenevo appunto a fare un video dove poter far vedere anche gli interni della farmacia. Et voilà. Grazie.